Aereo cargo si schianta in Grecia, otto morti fumi tossici, ricoverati due pompieri per problemi respiratori. Nessuna delle otto persone a bordo del cargo Antonov, partito dalla Serbia e precipitato nel nord della Grecia, è sopravvissuta all'incidente. Il ministro della difesa serbo, Neboisa Stefanovic, ha riferito che il velivolo, di proprietà della compagnia ucraina Meridian LTV, trasportava 11,5 tonnellate di materiale militare serbo destinato al ministero della difesa del Bangladesh, il volo, decollato da Nisa alle 20 e 40 di sabato, aveva come destinazione finale d'H con scalo tecnico ad Amman, in Giordania. La compagnia aerea ucraina Meridian ha confermato che le vittime erano tutte cittadini ucraini, esperti dell'esercito e della commissione greca per l'energia atomica si recheranno sul luogo dello schianto, dove utilizzeranno ombrone per avvicinarsi al relitto dell'aereo cargo, obiettivo delle autorità e valutare la tossicità dell'aria. Dopo l'impatto. Secondo quanto riferito da testimoni oculari l'aereo sarebbe andato in fiamme in seguito allo schianto e sarebbero avvenute delle esplosioni nel luogo dell'incidente. Due vigili del fuoco sono stati trasferiti in ospedale. Con difficoltà respiratorie a causa dei fumi tossici inalati dopo avere affrontato il fuoco, alle persone che vivono entro un raggio di due chilometri dall'area coinvolta è stato chiesto di rimanere a casa e di indossare mascherine. Il pilota è riuscito ad avvisare le autorità di una varia rilevata ad uno dei motori. E successivamente è stato autorizzato ad atterrare negli aeroporti di Salonico o Cavala, il pilota ha dunque optato per Cavala, che era il più vicino, dicendo di dovere effettuare un atterraggio di emergenza, le comunicazioni sono poi saltate e l'Antonov si è schiantato a circa 40 chilometri a ovest dell'aeroporto.